La curiosa, un pochino de modè, piccola fanfara che avete appena ascoltato, ci introduce in un argomento abbastanza particolare, questo Turin Casunga, Torino che suona, così recita il titolo di questo compact disc. Noi sappiamo che è esistita, anzi esiste ancora, stando alla carta intestata del Comune, una Torino che bugia, che non sta mai ferma, ma Torino che suona può essere riguardata da tanti punti di vista, dai grandi argomenti, il Teatro Regio nel Settecento, la Cappella Regia, la Scuola Violinistica Piemontese, i concerti popolari dell'Ottocento e ancora le prime rappresentazioni di Puccini. Ma il contenuto di questa registrazione non si occupa dei massimi sistemi musicali, ma va a raccogliere, pescandoli nelle raccolte di Casa Savoia o in quelle di biblioteche private, piccole composizioni pianistiche adatte a capire il costume, la sociologia, la piccola storia musicale di una Torino tra il 1830 più o meno e il 1930. D'altra parte, la fanfaretta, ecco, ci riporta proprio gozzanianamente ai tempi di Re Carlo Alberto, ne parla, vi accenna Gozzano nella poesia Torino, nei salotti beotti assai, pettegoli, bigotti, come i tempi del Re Carlo Alberto. E fu proprio Carlo Alberto che commissionò al capomusica Giuseppe Gabetti nel 1831 la fanfara e marcia d'ordinanza per le armate di sua maestà Sarda, che dopo l'unità divennero la fanfara, l'ordinanza, ma soprattutto l'inno nazionale, la marcia reale, dalla quale inizia il nostro itinerario. Ma ecco, dopo l'inno ufficiale nazionale, ecco che arriva, sempre circostanziato intorno a Carlo Alberto, l'imnu sardu nazionali, che fu scritto pochi anni dopo, nel 1843, per una visita di Carlo Alberto in Sardegna. E fu un altro capomusica, Giovanni Gonella, che invece di copiare un po' troppo sfacciatamente Rossini come Gabetti, compose un grande corale, ecco un inno come lo intendiamo oggi, un pezzo solenne, austero, severo e profondamente emotivo. E per questo l'ho collocato dopo la ballerina marcia, proprio per far sentire due modi diversi di inneggiare, di encomiare e di gratificare il sovrano. Ma non c'erano soltanto cose serie o semiserie, c'erano anche nell'attorismo di allora, poi ne vedremo tante, musiche palesemente divertenti, se non quasi ridicole. E allora ecco due inni, tra virgolette, ufficiosi. Una curenta, una monferrina, intitolata La Gianduieide. E l'autore chi è? Un certo Paulin. Non sapremo mai chi sia stato Paulin, però questa Gianduieide è una bella alternativa alla solita, ancora una volta, pei papi, che conosciamo fin troppo bene. Invece, assolutamente al di fuori di ogni repertorio conosciuto, è La Marcia del Gran Bogo. Anche questo è un inno ufficioso. È l'imno del circolo degli artisti nell'Ottocento, dove qualche musicista, rimasto anonimo, che faceva parte dell'Ordine del Gran Bogo, un curioso e caricaturale ordine cavalleresco creato all'interno dell'associazione, ecco, ebbe l'idea di celebrare quell'informe fantoccio di pezza che raffigurava il burlesco idolo, il burlesco totem, con una sgangherata marcia dove, a un certo punto, esplode l'invocazione e il bogo non si vede. Il bogo non lo vedrete, ma la marcia la ascolterete. E come? Fra poco.